Salve a tutti e bentornati ad Undertale. Allora. Papyrus ce l'ha detto di andare a vedere il laboratorio. E così faremo. Mi sembra tutto uguale. Oh, c'è una... Eh? Certo. Hmm? Ah? Ma non era il bagno? Eh Adesso ci andiamo Prima facciamo un giro Oh, eccolo! Ah, non è ancora a posto Pensavo dovesse cambiare solo la batteria Peccato Eh, ok Eh? Ok Quindi non era un bagno Wow Eh Ok Da là non si torna Eh? Ok Quindi c'era qualcos'altro in questi esperimenti Lo stava facendo solo Ok Che cosa strana Cioè alla fine pensavo Perché ci avevano detto che Dopo che aveva costruito Metadon Il re gli aveva chiesto Di fare gli esperimenti Ma non aveva fatto niente Invece li stava tenendo segreti Ah Huh Ah 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 Nasa uh Cavolo Oh È quella che abbiamo noi Ok Questo è inquietante Vero laboratorio Ah Cos'è questa cosa qua? Eh ma non si apre È anche questa Stava facendo gli esperimenti Su altri mostri Ah Eh Che cosa Oh Ah No È un mostro Che Che cosa sono? Sta Ok Oh mio dio No Oh cavolo No 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 Cavolo Memory head Ok Che cosa ha lasciato? Chiave rossa Torniamo a salvare così Riprendiamo un po' Di punti ferita Questo è quello che già abbiamo letto Però ce ne sono Alcuni mancanti Mi sa Ok Ok Questo luogo è estremamente inquietante Ok Ok Ah ok Va bene Va bene Ah Dobbiamo aprire quattro porte Cioè quattro interruttori Ok Oh No Ah però è l'unico sul quale Ci può stare Sì Oh Quello è l'unico dove ci possiamo sdraiare Un po' paura a sdraiarmi su quel letto Oh Ah Dai proviamo A dormire Vediamo che succede Hmm aspettiamo qualche secondo vediamo se come per la casa dello spettro succede qualcosa che posto assurdo no no non sembra stia succedendo niente ok andiamo a vedere qua a destra i semi mi ha provato a fare degli esperimenti con i fiori forse è lui che ha creato flaui io ho paura che prima o poi da questo specchio non comparirà la mia immagine non lo so perché puliamo forse sto nello specchio che cosa Oh mio dio Oh 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 Cavolo Oh mio dio No tra la musica e i mostri è una cosa veramente inquietante Oh Oh Ops Mi sa che Non mi accedere Non mi accedere Ah Torniamo a salvare E ci riprendiamo I puntiferita Wow Questo posto Il freddo Pensavo Il freddo La coperta Forse c'è qualcosa A che fare Con Un frigorifero Più avanti L'unica cosa Mi viene in mente Il laboratorio Freddo Freddo Ah Ok Beh almeno Sono tutti Vivi Eh Ok Forse qualcosa Non è andata bene Ehm Ehm Eh Inganno No Che Che C'ha Oh Eh Sì Ho capito Abbiamo Abbiamo Eh Non faccio a tempo Cavolo Ok Oh 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 Mio dio È come una cosa Veramente Proviamo a urlare Ma no Non voglio restare Qui con te Ah Ok Proviamo a piangere Ah Ok Ah Insomma Ehm Let's Ah Cavolo Ah Wow Determination Io non so A voi Ma a me ricorda Un po' Flawi Questo Aspettate Aspettate Va Prima di Andarci a Infilare Là Nel buio Wow Wow Secondo me Così L'ha creato Lui Flowi Ehm Ehm Ok Ah mi sa che c'erano dei monitor Ah infatti Proviamo qua sotto Sì Sì Ah Ah Ah... Sì. Ah! Va étant ridotto il. Sì. Sì. Sì, è iniziato! Chiedito! Eh?! Sì. Cosa? 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 Ah, ah. Ah ok Questa ce l'abbiamo Chissà se ha acceso la luce qua giù No Direi proprio di no Oh Dio Va a lui lento di proposito Oh cavolo Via 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 Non si aspetta Dai facciamo i coraggiosi Ah Quella verde serviva qua giù Eh non mi ricordo Vediamo un po' Era giù in fondo giusto Sì mi sa di sì Però è sempre tutto Oh oh Ah chissà se c'è una maniera di accenderle la luce là le luci la luce vediamo un po' la luce 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 Ah, cavolo Eh? Ok È sempre più strana la situazione Forse quello Quei ventilatori hanno tolto anche l'aria dall'altra parte Andiamo a vedere Ah Ah, ci sono dei... dei frigo qua Deve esserci la chiave dentro uno Ah Quello si è mosso Sì, allora perché si muove? No, cavolo No, impossibile Ah Oh Oh Eccolo No che non l'ho detto No che non l'ho detto Oh mio Dio È veramente una cosa Inquietante Ok Ah Allora Allora Ok Vediamo cosa ci aspetta Mi era sembrato di vedere qualcosa che si muoveva No È stata un'impressione Non si può? No Ah Ah Sì Oh mio Dio Oh mio Dio Ma 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 So No Da Ti Non Ah Ti Ti E questo l'abbiamo capito. E questo l'abbiamo capito. E questo l'abbiamo capito. Sì, prego. E questo l'abbiamo capito. E questo l'abbiamo capito. E questo l'abbiamo capito. E questo l'abbiamo capito. Non so assolutamente dove sono. Ok. Ok. Va bene. Che cosa... Sì. Ne sono perso. Un pochino. E soprattutto perché è diventato tutto di questo colore? Non era così prima. Vero? Ok. Ok. Qua c'erano le dombe, vero? Ah... Ah! Che bello! Qua c'erano? Che bello! Che bello! Qua c'erano! Qua c'erano? Qua c'erano. Ahah! No, com'è? Eh? Sì, oddio, sono appena uscito da un laboratorio molto inquietante. Eh? Quindi comunque andiamo a affrontare lo stesso? Sì. Ah! Ok, e per questo episodio ci fermiamo qua. La prossima volta vediamo se possiamo fare qualcosa per evitare lo scontro. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta con un altro episodio di Undertale. Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.